Allora, quindi no, ammettiamo che Dante Alighieri, no, nel Medioevo, ha questo pacchetto, si trova dentro, diciamo, il campioncino di romanza, De Masche Milano, che tanti di voi conosceranno, e allora io, diciamo, mi sono chiesto, ma Dante Alighieri, no, a parte se avesse avuto un cane l'avrebbe chiamato Giotto, ma comunque... Ehm, diciamo, Dante Alighieri, no, se avesse dovuto recensire il profumo De Masche Milano, romanza, come l'avrebbe recensito? L'avrebbe recensito così. Io ho tutti i miei appunti. Dante aveva scritto la cosa. Cioè, aveva un canale YouTube, deve andare là e deve recensire Masche Milano. E io non mi recensisce. Ah, eh? Stordir di scia fugace, a esenzia vignar tenace, che l'arrestò l'inceter mio, e parlommi da udir marrese. Oh, che profumo porti! Mi piace! Beatrice, che diceva Dante? Capir potrete di ragione o naufragio di chi compra tre profumi al mese e si impoverisce ad agio. De rigader fatale nel buio acquistare come un mulo, che poi d'arriva il profumo non te piace e te la pigli in del culo. De chi panna in vacanza prepara prima la valigia coi profumi e poi dei vestiti sbuota la stanza. Di chi durante il dì pa' alimentar su mantra mette du campioncini su una mano e tre sull'altra. Di color che si obbedissero al deseo, sine domande, di mor avrebber di flacon riempita e di giorno in giro in mutande. Ma via! Da udir portate speme del profunchi infonde gaudio e sul cor vibrarmi preme. Di maschi milano e romanza che nel verde infonde il narciso. Decadente e s'avesse volto lacrime in prosa a brillar sul viso. Profunchi e spirto appaga cimiterial di fiori macerati e stanchi come mirare il sol cadere e la morte infame d'accarezza ai fianchi. S'arroventa giacinto su una mirra a ribollir sul fondo ambrato, narciso ingiallito e stanco a sfumar memoria di un amore amato. Florear, floreal che di narcosia acuta acre seduce, d'animar respiro s'accende il verde e nel coro gelsomine riluce. Stridente insorge vetiver dal basso a dar voce alla terra, romanza calor focaio a cantar che dove amore non v'è guerra. Questo è un che in tre floreali odor chinebria risplende spicca. Difatti ve dico, se per maledizione cadesse la boccia a Dante sappicca, voi mi capirete. Questo è profunchi e di nicchia e dell'arte veste lo nome. Chi vuol capirmi intenda e si per spiegace. Io non mi amo Virgilio che parla dei profumi dei versace. Profundo un amor tormento, l'incorniciar d'un bacio di Paolo e Francesca nel dì che passiò l'avvolse e del brutal destino a ruota s'innesca. Lo so, curiosar vannega sulla scia del profumo romanza. Durarlo tempo d'un peto o del profumo riempir la stanza. Allora vi dico, niente è più longevo dell'olezzo dei piedi di Beatrice, che tanto gentile e tanto onesta, ma nei sandali c'è arveleno e nessun lo dice. E per finirvi dico, romanza incide e si fa memoria con far creatore di un demiurgo. Beatrice Sbraida, che è troppo forte, ma almeno per esprirà non serve di chiamare l'autospurgo. Ma perché, regà? Ma perché? Allora, quindi, diciamo, se Dante avesse dovuto parlare dei maschi emilano, De Romanza ne avrebbe parlato così. E mo, insomma, ne parlo io. Certo, parlato potante, diciamo, non è cosa facile. Comunque, come voglio dire, due parole. Insomma, se avete capito più o meno il concetto, è che questo è un profumo sostanzialmente molto, secondo me, facciamoci serio un attimo, questo è un profumo, diciamo, molto dei contrasti, secondo me. Cioè, abbiamo un'apertura molto, molto gialla, un floreale veramente molto secco. Io, appunto, l'ho definito, anche Dante, l'ho definito cimitariale, cioè nel senso che è un profumo sostanzialmente che in cui questo narciso esplode nella sua parte più verace, nella sua parte più realistica, e insieme a quel vetivè, nella sua parte anche più terrosa, secondo me. Quindi, quando il narciso si sente in apertura, si è la parte proprio del fiore. Quindi, i pedali, il gambo, ma anche proprio il bulbo con tutta la terra che scende giù. Quindi è proprio con tutte le radici. Ecco, quindi si sente proprio un'essenza, tutta proprio l'essenza del narciso in tutte le sue sfaccettature. E il giacinto l'accompagna. Io, sinceramente, il giacinto qua lo sento non nella sua... lo sento molto accentuato nella sua parte verde. Però non c'è, appunto, quell'aspetto cremoso che io trovo nel giacinto. Quindi qua l'apertura, appunto, come dicevo, è piuttosto secca, piuttosto audace. Ecco, quindi è un floreale molto cimiteriale, come vi ripeto. Dopodiché è quasi animalico. Quindi c'è una, diciamo, una virgola leggermente animalica data anche dalla componente speziata. Ma proprio un accenno. Sostanzialmente qui, vabbè, diciamo, il narciso è uno dei quei fiori che non è che stiamo a parlare della rosa, della peonia, che sono tutti fiori piuttosto, diciamo, amabili, no? Più facili da comprendere, da indossare. Qua il narciso è un po' come, che ne so, il gelsomino, la tuberosa, è come, come posso dire, il crisantemo, il garofano. Cioè, tutti fiori che hanno un carattere molto, molto forte. Quindi, per capirli e permetteteli, li devi veramente amare. Perché se no, diciamo, è difficile da mettere, no? Qua il narciso è forte, quindi è un bel floreale giallognolo, direi. Più che il floreale bianco, è un floreale giallognolo. Perché poi, insieme a quel gelsomino, appunto, nella base che sì, si sente, ma più che altro dà spicco a quella componente indolica. Un po' di indolica non mi spiego bene. Però, quella componente un po' animalica dell'arciso, non so come dì. Non è che perché sa deliscio. Però, non è dolce. Almeno, all'inizio. Ok? Dopodiché, nel fondo, comincia a venire fuori questa parte, diciamo, di vetivè. Questa parte, il vetivè continua a sostener tutto l'aspetto più verde, realistico, vegetale, un po' della composizione. Mentre, invece, comincia a venire fuori anche la parte di mirra, la parte ambrata, il cetro, che vanno là e levigano tutto. Proprio, smussano tutti gli angoli e, comunque, il romanzo nel fondo diventa un floreale ambrato che continua ad essi molto, diciamo, de carattere. Però, diventa decisamente più amabile, più dolce, più, diciamo, più tenero. Ecco, leggermente meno strontato dell'apertura. E bella, comunque, la parte resinosa de mirra e de ambra in fondo, perché, come dicevo, vanno a creare bene quel contrasto che, secondo me, contraddistingue bene questo profumo. Cioè, tutta la parte floreale schenchi, proprio audace, e tutta la parte, invece, del fondo, un po' più ambrata, un po' più dolce. Quindi, sì, profumo molto elegante, molto, diciamo, molto da signora. Ecco, da signora nel senso proprio caratteriale, quindi è un profumo molto, molto sfrontato, anche, secondo me. Però, bello. Uno dei floreali più belli, più interessanti, e, secondo me, uno dei quei evergreen, secondo me. Questo sarà, se non lo discontinuano, sarà uno dei floreali un po' senza tempo, molto famoso e a ragion vetuta. Bello, bello, romanza, molto bello. E, breve anticipazione. E, farò, se vi interessa, comunque, come vedete, io ho ordinato, e comunque mi devono ancora arrivare altre cose, alcuni, diciamo, prodotti che ho preso, tipo, dall'Inghilterra, anche da un sito italiano, e da Hermitage, Oils, da Pellwall, da Glamour Cosmetics. Comunque, ho preso un po' di materie prime, cioè, un po' di quelle materie prime che voi vedete nei laboratori dei profumieri, quando devono fare i profumi, no, tutte le varie cose, alchimie, devono mischiare gli ingredienti per tirare fuori una fragranza, e io ho detto, io voglio capire che creatore hanno tutte quelle boccette che vedo nei, diciamo, nesti banchi, nesti profumieri, nesti laboratori. E, quindi, mi sono ordinato un po' di cose. Per esempio, che ne so, qua abbiamo l'accordo fiorito, vabbè, qua abbiamo l'Elonal, bellissimo, questo mi ha piaciuto un botto, l'Elonal, che dovrebbe chiamarsi Elionale, credo, in italiano. Comunque, qua dice nella descrizione, fresh, watery, green, floral, ciclamen, ciclamen, sacramen, boh, e, hey, diffusi, tipo fresco, acquadivo, verde, floreale, ciclameno, fieno, e molto, molto, come si dice, diffusivo, molto proiettante, cioè, proietta molto, è vero, questo, molto buono, sa proprio di acqua, veramente bello. Mi piace perché, quando hai, diciamo, l'approccio a queste materie prime, pure, capisci anche che cosa utilizzano tanti profumieri quando devono fare le loro essenze, le loro fragranze. Per esempio, c'è Balint, che a me piace tantissimo, che ha un profumo che si chiama After Rain, e che è un profumo molto acquatico, e non è che magari hanno usato l'Elonal, però magari hanno usato o il Melonal, che sarebbe una specie di accordo acquatico, nota acquatica, tipo come questo, però, ecco, capisco da dove vengono alcuni tipi di sfumature che hanno i prodotti finiti di questi profumieri. Però, ecco, bello perché è un percorso, insomma, molto, molto lungo, a cui sicuramente arriverò a capo molto, molto difficilmente, perché vengo conoscendomi, perché io poi, se non gioco tutto subito, mi nervosisco, quindi, comunque, per adesso mi ha presa molto bene, quindi voglio molto approfondire questa cosa e speriamo che sia, diciamo, un percorso di soddisfazioni. Però, vedrò aggiornati, se poi siete curiosi di capire un po' di più riguardo a tutte queste materie prime che ho preso, tipo anche, che ne so, questo l'ho visto, tipo c'ho aromanolite, no, questo è l'accordo di Peonia, sostanzialmente tutti aroma chemicals, cioè tutti aromi chimici che riproducono accordi determinati, oppure proprio aromi chimici in sé, cioè tipo l'elional che, che ne so, ha formula, sarà C6, H24, non lo so che cosa, che però c'è un odore specifico. In questo caso acquatico, bella questa cosa, che le materie organiche che c'hanno, le, diciamo, le molecole organiche che c'hanno queste, queste, basta, ho detto fin troppo di chimica, non me posso spingere più in là. Comunque, derivando al prossimo video, e che vi devo dire? Niente, oggi Franco mi taglia dei capelli. Me la mica tagliati male, comunque, devo essere, cioè con Bagliaro, regà, molto meglio. Eh, mo vabbè, non vi vedete mo, però comunque, diciamo, me la tagliati bene, devo dire la verità, non ne aspettavo. Se mi sono là con le forbici, dico, mo mi struppi, invece, veramente bravo. Vabbè, ciao, ci rivediamo al prossimo video.